Pedro Sanchez non si dimette, il primo ministro spagnolo rimarrà in carica nonostante le pressioni dell'opposizione. Israele continuano gli sforzi di Benjamin Netanyahu per impedire mandati di arresto nei suoi e nei confronti di funzionari israeliani per crimini di guerra da parte della Corte Penale Internazionale. Troppi ritardi e promesse mancate, il segretario generale della Nato bacchetta i paesi membri dell'alleanza, ma Kiev aggiunge può ancora vincere. Il premier spagnolo ha annunciato che non si dimetterà. In un discorso alla nazione, Pedro Sanchez si è impegnato a lavorare instancabilmente con fermezza e serenità per la rigenerazione della democrazia spagnola, nonostante le pressioni e le accuse dell'opposizione. estos cinco días se mobilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Mercoledì scorso, dopo che un tribunale ha aperto un procedimento preliminare contro la moglie per le accuse di corruzione, Sanchez ha annunciato che si sarebbe preso una pausa per riflettere. Mentre i pubblici ministeri spagnoli hanno chiesto di respingere la denuncia contro Begonia Gomez, presentata da una piattaforma legale di estrema destra, il partito di Sanchez si è unito per difenderlo, mentre il partito popolare, all'opposizione, ha fatto pressione per le dimissioni. Dopo cinque giorni di riflessione che hanno tenuto sulle spine un intero paese, lunedì mattina il primo ministro Pedro Sanchez ha finalmente rivelato che non si dimetterà. Sanchez ha deciso di resistere, forse rinvigorito dall'ondata di sostegno e solidarietà che l'ha travolto in questi giorni di pausa, nelle strade ma anche tra i partiti della sua coalizione di governo. Il primo ministro spagnolo aveva annunciato le sue possibili dimissioni il 24 aprile, dopo che un giudice aveva aperto un'indagine preliminare contro sua moglie per presunta corruzione e traffico di influenze, in quella che lui descrive come una campagna diffamatoria orchestrata dalla destra. Ma a questo punto molti si chiedono se fosse davvero necessaria questa pausa di riflessione. Quello che certamente Sanchez è riuscito a fare è mobilitare ancora una volta il suo elettorato in vista delle elezioni europee, con le quali il Partito Popolare spera di consolidare il suo vantaggio sui socialisti. La mancina è riuscito di cambiare il foco del relato, non si parla tanto di queste investigazioni judiciarie in curso che afectavano a suo partido o a sua mujer, e ademais di cambiare il relato, permetterà con la logica di dos blocchi e frenare a la ultraderezza della tendere un muro frente al PP y a Vox, cohesionar su electorado ante le prossime citazioni electorali. Queda por saber se il juez continuará con la investigazione sobre la suposta corrupzione della mujer del presidente del governo o se, come appunta la maggioranza di esperti, acabaranno per desestimarsi. Però, intencionadamente o no, la amenaza di renuncia di Pedro Sánchez ha deixato descolocati a sus adversari e ha conseguito dar la volta a le encuesti. Según el CIS, el PSOE aventaja ahora en 10 puntos al PP en intención de voto tras el anuncio de Sánchez de hacer un paréntesis. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. In attesa de una respuesta de Hamas a la controproposta de Israele sulla liberación de los estagi, a preocupar el primer ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e ha anche la possibilità che la Corte Penale Internazionale possa mettere mandati di arresto nei suoi e nei confronti di funzionari israeliani per crimini di guerra. Il primo ministro continua ad essere contestato anche a casa. Sabato 27 aprile, manifestanti sono scesi nelle piazze israeliane e hanno scandito Cori e slogan contro Benjamin Netanyahu e il suo esecutivo. Nel frattempo, si intensificano gli sforzi diplomatici per cercare di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas. Dopo la telefonata di domenica 28 aprile tra il presidente statunitense Joe Biden e il premier israeliano Netanyahu, in settimana il segretario di Stato Anthony Blinken sarà in Giordania e in Israele nel suo settimo viaggio nell'area dal 7 ottobre. Un small strike is all it takes to force everyone to leave Palestine and we will be witnessing the greatest catastrophe in the history of the Palestinian people. We ask Israel to stop its attack. Sul fronte della situazione umanitaria, domenica 28 aprile sono stati lanciati pacchetti sulla città di Gaza per la popolazione sfollata. La World Central Kitchen ha annunciato che riprenderà dal 29 aprile la sua attività nella striscia di Gaza con la consegna di aiuti umanitari alla popolazione palestinese anche nel nord delle enclave. L'Unione Europea deve accettare nuovi membri dal suo fianco orientale e dai Balcani occidentali o dovrà affrontare una nuova cortina di ferro ha dichiarato Charles Michel. Il presidente del Consiglio Europeo ha parlato con Euronews nella giornata che celebra i 20 anni dal cosiddetto Big Bang europeo quando nel 2004 10 paesi con una popolazione complessiva di 75 milioni di abitanti hanno ottenuto l'adesione all'Unione. Il presidente del Consiglio Europeo è importante 9 paesi sono attualmente in attesa di entrare nell'Unione Europea. Tra loro c'è l'Ucraina devastata dalla guerra ma il processo di adesione è lungo e complesso e i passi verso la piena integrazione richiedono l'approvazione unanime di tutti gli stati membri. L'Ungheria ha già minacciato di esercitare il suo potere di veto per bloccare l'adesione dell'Ucraina ma Michel è fiducioso che ciò non impedirà all'Unione di accelerare i negoziati dei paesi candidati. Michel ha già detto che l'Unione Europea deve essere pronta ad accogliere nuovi membri entro il 2030 ma questa settimana ha affermato che i paesi candidati più avanzati potrebbero entrare nel blocco prima della fine di questo decennio. I paesi della Nato non sono riusciti a mantenere in tempo le loro promesse. Ad affermarlo è il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg che ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Al termine del summit è stata tenuta una conferenza stampa congiunta. Stoltenberg ha affermato che i ritardi negli aiuti da parte dei paesi della Nato hanno permesso alla Russia di guadagnare terreno. Il presidente ucraino ha affermato che le forniture occidentali hanno iniziato ad arrivare ma lentamente ha per questo chiesto un'accelerazione. La notizia arriva un giorno dopo che la TV di Stato russa ha mandato in onda un filmato che mostra forniture occidentali conquistate sul campo di battaglia ed esposte a Mosca. Si dovrebbe trattare tutto di 30 veicoli blindati provenienti da nazioni come Stati Uniti, Regno Unito e Germania. A Dublino sono comparse tende lungo le strade in particolare accanto all'ufficio che si occupa delle domande di asilo. C'è un dato che preoccupa. Circa l'80% dei migranti arriva in Irlanda attraverso il confine aperto con l'Irlanda del Nord. I flussi sono aumentati nei mesi in cui il Regno Unito ha discusso l'invio dei richiedenti asilo in Ruanda accordo infine approvato la scorsa settimana. Si ritiene che il piano Ruanda abbia spinto molti migranti a lasciare il Regno Unito. Gli irlandesi lamentano la mancanza di case e 13.000 richieste di asilo nel 2023 hanno aggravato le tensioni. La scorsa settimana sono scoppiati scontri in una contea su di Dublino dopo la proposta di alloggiarvi dei migranti. Le autorità irlandesi sono a Londra lunedì per trovare un accordo.